Ciao ragazzi, bentrovati sul nostro canale con uno dei contenuti che vi piace tanto, ovvero oggi andrò a fare una reazione a un vostro portafoglio di investimento. Ebbene sì, lo sapete, tanti di voi ci stanno mandando ormai da parecchi mesi tanti, 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 tanti portafogli sul quali facciamo un'analisi gratuita dello stesso portafoglio e poi ogni tanto riportiamo qua sul canale il lavoro svolto per aiutare altri investitori a capire quali possono essere degli errori e quali possono essere invece delle scelte giuste da fare sul proprio portafoglio di investimento. E sono felicissimo di ricordarvi che cliccando sul link qui sotto in descrizione anche voi potrete farvi analizzare il vostro portafoglio direttamente da noi, dai nostri consulenti finanziari, dalla società di consulenza finanziaria IoInvesto. Cosa vedremo nel video di oggi? Andremo a vedere la composizione iniziale di questo portafoglio, andremo a vedere se ci sono eventualmente alcune inefficienze e su alcuni strumenti faremo anche dei ragionamenti abbastanza interessanti. Andremo a vedere come sempre la struttura dei costi e passeremo poi a dei ragionamenti, un po' un parere personale. Il portafoglio in questione oggi è un portafoglio abbastanza variegato, abbiamo dei fondi, abbiamo delle polizze, abbiamo anche delle obbligazioni, dei BTP, abbiamo dei libretti postali e poi della liquidità. Quindi veramente eterogeneo dal punto di vista degli strumenti finanziari, ma andremo a vedere qualcosina di ogni scelta di investimento. Su ogni scelta di investimento andremo a vedere se è stata opportuna oppure no. Il portafoglio arriva a quasi 200.000 euro, quindi è un bel controvalore e appunto è diversificato in diversi strumenti. Io partirei ad analizzare subito i fondi di investimento. Fondi di investimento ragazzi che di base noi diciamo sempre una cosa. Nel lungo periodo non riescono a battere il benchmark e questo lo dicono i numeri, non lo dicono le opinioni. Poi è vero ci sono dei fondi di serie A, anche di classe A, di fondi di classe B, fondi di serie B, quindi ci sono dei fondi migliori, dei fondi peggiori, chiaramente dati dai costi, dati dal conflitto di interesse, dati dalla casa di investimento, data anche dall'abilità comunque del gestore, questo va detto. Ma quello che, dalla quale non ci si scappa, sono le statistiche. In questo grafico voi riuscite a capire come nel lungo periodo la stragrande maggioranza, addirittura circa tra l'80 e il 90% dei fondi di investimento non riesce a battere il benchmark. E se poi andiamo ad approfondire questi studi fatti dalle più importanti agenzie di rating al mondo, ci dicono che se andiamo a prendere i fondi che hanno battuto il benchmark nel lungo periodo, negli ultimi dieci anni, e li rivediamo tra dieci anni, solo il 10-20% di essi ha battuto il benchmark. Quindi non c'è sostanzialmente una certa resilienza all'interno dei fondi comuni di investimento. Ma al di là di questo, cosa c'è che non mi piace all'interno della scelta di questi fondi di investimento? La prima cosa che noto è che tutti sono di una sola casa di investimento, ovvero JP Morgan, casa di investimento tra le più grandi al mondo, banca tra le più grandi al mondo, quindi poco da dire sulla solidità della banca, però da qui mi puzza un certo conflitto di interessi, ovvero c'ho dall'altra parte un intermediario finanziario che mi sta vendendo, probabilmente o avrà poca scelta, quindi avrà solo fondi JP Morgan a loro disposizione, anche questo non va bene, o no? Quindi in questo caso dovrò cercare un intermediario, o comunque un consulente capace di potermi consigliare al meglio sulle diverse case di investimento, sui diversi strumenti di investimento, anche gli ETF, se non altro, qua sappiamo l'enorme conflitto di interesse che c'è in banca, però se non altro almeno case di investimento diverse. Invece qui solo una casa di investimento. Altre due cose che non mi piacciono nella selezione di questi fondi sono, attenzione, uno che parecchi fondi sonneggiati. Eggiati cosa vuol dire? Che c'è una copertura valutaria. Ok? Quindi io faccio, investo nell'economia americana, sull'SP500, faccio un esempio, eh? L'SP500 sono esposto ovviamente in dollari, quindi se il dollaro scende io faticherò sul mio investimento. Oppure posso scegliere la versione eggiata che mi va a coprire il cambio, quindi il dollaro può salire, può scendere e a me viene neutralizzato. Ecco, in questo caso vedo parecchi fondi eggiati appunto, quindi che vanno a neutralizzare la variazione del cambio. Non è male di per sé questa scelta, anzi noi facciamo la spesa in euro, quindi perché devo andarmi a prendere del rischio eccessivo e ulteriore? In realtà però leggiatura, o meglio tutto ha un costo anche leggiatura, quindi se io vado a coprirmi dal rischio cambio io dovrò pagare sostanzialmente l'assicurazione che sto facendo sul rischio valuta, o no? Quindi io mi sto, sto trasferendo, sto eliminando un rischio del mio portafoglio che è il rischio valutario, per fare questo purtroppo devo pagare qualcosina. Quindi leggiatura, attenzione che costa e nel lunghissimo periodo in genere non è così efficiente coprirsi su un cambio magari forte come l'esempio che ho fatto prima magari sul dollaro. Perché? Perché il dollaro comunque non ha valuta forte, nel lungo periodo l'euro-dollaro si controbilancia. Quindi potrò fare un 20% in più, potrò fare un 20% in meno, ma se prendo un orizzonte temporale tendenzialmente lungo, 10, 15, 20 anni, ecco che il rendimento che arriva dal mercato sovrasterà il rendimento che deriva dalla valuta, sia nel bene che nel male. Quindi attenzione, non sto dicendo che leggiatura non va mai fatta, ma va fatta con coscienza. Quindi devo capire che è un costo, devo capire quali sono i miei obiettivi, devo capire come è composto sostanzialmente il mio portafoglio e quando usarlo. Ma ecco io in genere lo utilizzo con una certa soglia, con un certo limite. Quando lo utilizzo, in genere io non sono un amante della leggiatura, ma quando lo utilizzo capita, magari sulla parte obbligazionaria, sulla quale non voglio prendere eccessivamente rischio, allora in quel caso ci può stare. Ma ripeto, qua mi sembra davvero eccessivo. In secondo luogo un'altra cosa che non mi piace è che trovo tanti fondi, forse troppi, a distribuzione, quindi distribuiscono delle cedole. È vero che al cliente piace, è vero che a livello commerciale si vende facile, però non è efficiente, questo dobbiamo capirlo. Non è efficiente per due motivi, uno soprattutto per un'efficienza fiscale, quindi se io ho un fondo dalla quale sto perdendo in quota capitale e mi stacca la cedola, io pago il tasso di interesse su quella cedola su un investimento che sta perdendo, quindi ecco ho spiegato il perché dell'inefficienza fiscale di un fondo, ma anche di un ETF a cedola. Non mi piacciono particolarmente. È chiaro in questo caso che dovremmo andare a vedere gli obiettivi del cliente, quindi se il cliente ha, desidera sostanzialmente un incremento del suo reddito, sostanzialmente aggiuntiva, che deriva magari dai suoi investimenti, per carità ci sta, attenzione, non possiamo generalizzare. Però in genere, anche in questo caso, andrei a ridurre all'osso la componente cedolare, proprio perché è inefficace, inefficiente a livello fiscale, e non solo, ricordiamoci anche che andando a staccare delle cedole dal mio investimento non riuscirò a sfruttare appieno l'interesse composto. Quindi doppia inefficienza che va a pesare poi sul globale del nostro portafoglio. Quindi attenzione, anche perché, per chi vuole un flusso cedolare, capita a volte che vado a strutturare proprio un ribilanciamento periodico ad accumulo del capitale. Scelgo io da dove staccare la cedola e quando staccare la cedola. Sembra una cosa banale, quindi diciamo, ma no, ma scusa, ma ho le cedole. In realtà è un'ottimizzazione, appunto, sia a livello fiscale, sia a livello, se vogliamo, anche tattico. Cioè sono io che decido dove andare a staccare la mia cedola. La cedola, ricordiamolo, non è nient'altro che una vendita parziale. È chiaro che questo ragionamento lo si può fare su dei patrimoni di un certo tipo. Magari chi ha un patrimonio un pochettino più modesto, vuole la cedola, va bene, perfetto, ci può stare. Per quanto riguarda le polizze, non voglio oggi soffermarmi, ragazzi, sull'analisi di ogni singola polizza. Le abbiamo già viste, le vedremo e ogni volta ne raccontiamo delle belle. Le polizze non mi piacciono perché? Perché se hanno una componente assicurativa, in genere è prefabbricata, io la chiamo così, quindi ci vanno a mettere un po' di copertura assicurativa, un po' di risparmio, un po' di investimento, ci caricano una valangata di costi ed ecco fatta la bella polizza. Loro ci guadagnano, voi avete delle coperture che non sono personalizzate, un risparmietto con una marea di costi e degli investimenti assolutamente inefficienti. Quindi non mi piacciono assolutamente le polizze e in questo caso è esattamente così. Quando parlo di assicurativo, attenzione, se parlo di investimenti parlo di ETF, azioni, conti deposito, strumenti finanziari. Quando parlo di assicurativo parlo di strumenti che mi vanno a coprire dei rischi, anche, anzi, soprattutto polizze a fondo perduto. Quindi temporane caso morte, invalidità per malattia, per infortunio, long time care, perdita di autosufficienza, insomma tutte queste cose. Quando io ho una componente di investimento in una polizia assicurativa, devo pormi delle domande. Ok ragazzi, quindi se ho un'esigenza di un certo tipo, se vogliamo, possiamo mettere successoria, magari fiscale, che però, attenzione, anche lì è da misurare bene, allora ci può stare. In tutti gli altri casi, ragazzi, no, no, togliete quelle diavolo di polizze assicurative dei vostri portafogli di investimento. Non vi servono, anzi, vi vanno ad affossare i vostri investimenti. Oggi, tra l'altro, ragazzi, sento parlare tanto di gestioni separate. Gestioni separate hanno la protezione del capitale, rendono ancora qualcosina rispetto agli anni precedenti. Allora, ho voluto fare un, tra virgolette, un gioco. Allora, sono andato a prendere una polizza, non facciamo nomi, non mi interessa, che era all'interno di questo portafoglio. La migliore, la gestione separata pura. Ok, tutte le altre polizze miste, polizze unit, con cose che ho appena detto prima, quindi non vanno bene, assolutamente. Ho trovato una gestione separata. Andiamo a vedere la gestione separata, se può far, al caso nostro, oppure no, oppure anche qua andiamo incontro a una serie di inefficienze. Allora, spieghiamo la gestione separata in poche parole. La gestione separata è una gestione in cui all'interno c'ha soprattutto dei titoli obbligazionari, soprattutto BTP, quindi anche qua un po' di rischio Italia ce l'abbiamo, ma va bene, ok, che sono valutate al costo storico. Quindi a me se variano i tassi, il BTP sale e scende, non mi interessa nella gestione separata, il rendimento della gestione separata sarà dato semplicemente dalla media dei flussi di cassa che vengono staccati. Quindi volgarmente dalle cedole e dai dividendi che sono all'interno della gestione separata. Questo mi permette di avere un rendimento molto più costante nel tempo e questo le gestioni separate ce le danno. In un momento in cui i tassi sono crollati a picco, le gestioni separate potrebbero fare al caso di diversi investitori. Ma, ma, sono prodotti assicurativi. Assicurativi vuol dire costoso. Andiamo a vedere perché anche questo prodotto io ad oggi ve lo sconsiglierei. Partiamo dai costi. Partiamo già dai costi di frazionamento. Quindi, se è una polizza che devo versarci mensilmente, quindi è un risparmio, una sorta di piano d'accumulo, ok, però ho dei costi di frazionamento. Quindi se voglio fare un versamento mensile pagherò il 5% in più, fino a un 2% in più se volessi fare un versamento semestrale. Ma non finisce qui. Sulla parte di premio io pago un ulteriore percentuale di costo, costo di caricamento, che va dal 5,8% fino al 6,8% in base all'ammontare dei premi annui. Ragazzi, stiamo parlando dal 5,8% al 6,8%. Quindi ragazzi, io verso 1000€, voglio frazionarlo mensilmente e perdo già il 5%, un ulteriore 5,8% o 6,8% di costi di caricamento e già io ho il più del 10% del mio versamento andato in fumo. Inoltre ovviamente avrò dei costi di riscatto, questi aumentano in base alla durata, agli anni che mancano alla scadenza del contratto stesso. Questi variano da 0,25% quando manca un anno, fino a oltre il 5% di uscita, quindi anche qua un'altra bella mazzata. Insomma, anche questi investimenti non sono bellissimi perché mi fanno sentire un po' in trappola. Quindi dico, ok, voglio cambiare tipologia di investimento, eh no, ti mancano anni alla scadenza, devi pagare la commissione di uscita. E quindi se le chiamo delle trappole perché se sto dentro comunque mi perdo delle opportunità, se esco, prendo la mazzata, ormai la frittata è fatta. I costi sono finiti qua? Assolutamente no. Abbiamo anche un costo di gestione annua, in questo caso sulla gestione separata, dell'1,5%. Quindi abbiamo davvero parecchi costi e andiamo a vedere adesso il lato rendimento. Come vedete il rendimento della gestione separata dal 2012 a oggi, guardo qualche dato, è sceso, è vero, dal 4,34% nel 2012 fino al 2016 che era un 3,51%. Chiaro che 3,51 meno un punto e mezzo di costo che abbiamo visto sulla gestione, pagata anno dopo anno, il rendimento è bello che fatto, era circa il 2%. Andiamo a vedere l'ultimo anno quanto ha reso questa gestione. Ahimè, questa gestione nell'ultimo anno ha reso il 2,26%. È normale, i tassi sono scesi, sono crollati e quindi è normale che pian piano anche le gestioni separate si andranno ad adeguare, ok, al rendimento di mercato. Il problema qua è che io ho una polizza, che è vero che mi rende il 2,26%, ma se ci tolgo l'1,5% di costo, già scendiamo a 1,07%. Se tra poi andiamo a pensare, il costo di frazionamento, il costo di ingresso, insomma tutta una serie di costi che abbiamo visto precedentemente, cioè io sul versamento che faccio dei miei 1,000€, sul quale perdo subito l'11, 10, l'11%, hai voglia di recuperarli allo 0,70% annuo. Capite dove ci stiamo andando a ficcare? Quindi va bene la gestione separata, può aver senso, ma ragazzi attenzione, attenzione ai costi vi prego. Se proprio volete andare a fare una gestione separata andate a selezionarla sul mercato, questo è un lavoro che anche noi con la nostra società di consulenza finanziaria indipendente andiamo a farlo ed è questo un valore che vi può dare un consulente finanziario indipendente. Quindi non vendervi la polizza che ho e poi se è buona bene, se è meno buona, pazienza, ma è quello di andare a consigliarvi il miglior strumento sul mercato che può fare per voi e per le vostre esigenze. Ora ragazzi, due parole, veramente due parole sul BTP. Ci sarebbe da fare un video ad hoc sul BTP, anzi scrivetemi nei commenti se volete approfondire questo ragionamento che lo farò super sintetico. BTP, BTP, allora ci può stare il BTP, è un'obbligazione, è un'obbligazione di Stato, sappiamo i rischi dell'Italia, però è in una buona concentrazione. Quindi il peso che questo investitore ha all'interno del portafoglio sul BTP non è eccessivo. Quindi secondo me lato peso ci può stare. C'è un'altra cosa che non va assolutamente bene, la duration, cioè la scadenza di queste obbligazioni. Abbiamo un'obbligazione, un BTP, che scade nel 2037. Allora ragazzi, in una situazione come questa, con i tassi e i minimi, la cosa peggiore che potete andare a fare è andare a comprare un'obbligazione a lunga scadenza. Perché? Perché vi state fissando il tasso di interesse sui minimi storici. Quindi in questa fase, chiaramente chi lo compra oggi, chi l'aveva acquistato magari mesi fa, anni fa, forse non è oggi il momento di venderlo. Questo scommetto che ve l'avranno detto in tanti. Magari anche in banca per farvi passare su un bel prodottino di risparmio gestito dalla quale ha alti costi, quindi è più remunerativo anche per la banca. Ma in questo caso devo spezzare una lancia. È vero, è vero. Oggi sul mercato probabilmente il BTP può essere venduto, soprattutto su quelle sue lunghe durate. È chiaro, se andiamo a quelle a breve durata, rendono niente, se non negativo. E quindi l'investitore è portato ad allungare un po' la scadenza dell'obbligazione per andare a riuscire a ottenere un rendimento, se non altro, positivo. Ma è davvero la scelta giusta? Faccio un ragionamento molto semplice. Oggi da queste immagini potete vedere questo BTP quota circa 142. Questo BTP scade nel 2037, a febbraio se non sbaglio, e ha una cedola del 4%. Ora io faccio due calcoli. Quanto ci staccherà di cedola? Molto semplice. Vado a prendere quanti anni mancano alla scadenza. Siamo nel 2021, andare nel 2037 sono 16 anni. Togliamo sei mesi, adesso siamo ad agosto, scade a febbraio. Sono 15 anni e mezzo. 15 anni e mezzo per il 4% di cedola annua ci fa circa 62. Sto facendo veramente i calcoli della serva. 62 di cedola. Questo è il vantaggio economico che io prenderò, tra l'altro nel futuro, delle mie cedole. Perfetto. Quanto vale oggi il BTP? Vale 142. 162. Scusate, 62 di cedola. Di cedole future. Meno 42 perché è il prezzo che io attualizzandolo posso ricevere in più a scadenza il BTP mi dà 100. Quindi se oggi vale 142, lo vendo a 142, mi dà 42 di plus valenza sostanzialmente rispetto al rimborso finale. Io vado a guadagnare tenendo questo BTP sostanzialmente 20 punti nominali in più rispetto alle 62 cedole che andrò a prendere. Perché? Perché prenderò le 62 cedole ma avrò il valore nominale, il valore di mercato in realtà del BTP che scenderà fino a 100. Perfetto? Ok, quindi io ho il guadagno in questi 15 anni e mezzo di 20 punti percentuali. Valore nominale 100, 20 punti sono circa il 20%. Facciamola veramente semplice. Stiamo parlando del meno, meno del 2%, anzi poco più dell'1% all'anno. Ma ragazzi, sfruttando un orizzonte temporale di questo tipo, facendo un portafoglio, ma anche prudente, 30% azionario, 70% obbligazionario diversificato con un po' di oro, quali sono le probabilità che in 15 anni e mezzo un portafoglio diversificato mi faccia un rendimento maggiore rispetto a questo BTP che tra l'altro ha un rischio specifico non indifferente, quindi io vado a diversificare per riuscire a ottenere un rendimento ancora più alto. Bene, le probabilità ragazzi se non sono il 100%, sono al 99%, un portafoglio diversificato mi farà molto di più rispetto ai tassi di oggi. Poi, chiaro che il futuro è imprevedibile, ma insomma il beneficio della diversificazione ci permette di ottenere questi risultati. Quindi eliminiamo il rischio specifico, diversifichiamo l'investimento per ottenere dei rendimenti anche più interessanti. E oggi forse questo ragionamento vale più di sempre, perché? Perché oggi il BTP rende veramente poco, i tassi sono veramente allo zero. Arriviamo ai libretti postali. Il libretto posta quando parliamo di poste su questo canale, ormai Alessandro ci ha fatto capire che dalle poste non ne possiamo parlare un gran che bene. Oggi vi stupirò invece, perché? Perché questo investitore dice, guarda Nilo, è vero che delle poste insomma non ho sentito parlare un gran che bene, rendimenti, bla 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 bla, ma attenzione, io questi libretti li ho aperti un po' di anni fa. E quindi in questo caso, anche dai valori che andiamo a vedere, li vado a sbirciare un po' anche io, qua abbiamo che il valore all'1 agosto 2021 sono 6.000 euro, il valore al 6 marzo 2022 sarà 6.265 euro. Non è male ragazzi, non è male, o se andiamo a prendere anche l'altro, vado a leggere, dall'1 agosto 2021 contro valore 20.700 euro, data di rimborso nel 2024 novembre 29.000 euro. Ragazzi, questo è un grandissimo risultato, quindi se io ho un investitore, ho un buon prodotto, anche vecchio, assolutamente tienilo, 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 tienilo come l'oro. Quindi buono in questo caso aver fatto dei libretti postali quando i tassi erano leggermente più alti, chiaramente se oggi vado sul sito delle poste a vedere quanto mi rendo un libretto postale, ragazzi c'è da mettersi le mani nei capelli. Infatti andiamo a leggere che il rendimento è dello 0,001%, quindi un rendimento davvero bassissimo, praticamente nullo. È chiaro che poi ci sono i buoni postali, dipendono dalle scadenze, ma ragazzi troviamo dei conti deposito o comunque delle alternative di investimento che rendono molto molto di più, molto di più no, però sicuramente di più rispetto a questi rendimenti praticamente nulli. Oh ragazzi, siamo andati davvero a vedere un pochettino di tutto all'interno di questo portafoglio, vi ho detto i pro e i contro di ogni possibile scelta e siamo arrivati alla parte conclusiva, la parte dei costi. Allora ragazzi, se io dovessi andare a vedere questo portafoglio e dire se è stato fatto su misura del cliente per il suo bene, probabilmente direi di no, perché ci sono diversi fondi come investimento con dei costi, non proprio fatti bene, con un'unica casa di investimento, polizze assicurative abbastanza inguardabili. Insomma, per farvela breve, il mio portafoglio di investimento personale è molto diverso rispetto a quello appena visto. Quindi anche solo per questo direi no, non investirei mai così, non è efficiente investire così, non va bene avere certi strumenti all'interno del proprio portafoglio. Chiaramente non sto parlando di rischio, non sto parlando di portafoglio adeguato agli obiettivi del cliente, non conosco gli obiettivi del cliente, sto facendo semplicemente un'analisi a monte del portafoglio sulla qualità degli strumenti scelti e attenzione, doveroso sottolinearlo. Ecco, avere un portafoglio del genere, quindi inefficiente, che mi va a generare anche dei costi di 1800 euro all'anno, costi stimati, costi semplicemente di gestione, all'interno di questi costi, per esempio, non si sono i costi di caricamento delle polizze, che comunque noi dobbiamo sostenere se andiamo a versare il premio ricorrente, quindi attenzione, è solo la parte di costi di gestione, quindi annuali, in realtà i costi, purtroppo, analizzandolo, sono anche superiori, ma avere un costo del genere per un portafoglio sostanzialmente non così efficiente non va assolutamente bene. Pensate che, semplicemente, cambiando questi strumenti con strumenti sostanzialmente più efficienti, a minor costo, abbiamo una riduzione di costi molto importante. Infatti il portafoglio ci potrebbe costare, su questi importi, circa 200 euro di costi di gestione annui e otterremmo un risparmio di 1600 euro, questo ovviamente per il portafoglio. È chiaro che in questo caso, se un investitore fosse interessato a fare questa scelta, è chiaro che dice ok, ma da solo non posso farlo, voglio rivolgermi a un consulente finanziario indipendente, da lì ovviamente ci sarà una parcella adeguata alle necessità del cliente. Il costo totale sicuramente sarà inferiore della parcella rispetto a questo risparmio, quindi un risparmio importante rimarrà per il cliente e allo stesso tempo, dall'altra parte, avrà un professionista che sarà pagato per fare esclusivamente gli interessi del cliente. Ed è questa la grande rivoluzione e il grande cambiamento. Quindi io addirittura per ottenere un servizio veramente migliore, io vado a pagare addirittura un po' meno. Addirittura un po' meno. In alcuni casi facciamo parcelle che sono la metà, un terzo, in alcuni casi è arrivato a un quarto rispetto a quello della banca per dare veramente un valore che non ha paragone, non ha paragone semplicemente per l'assenza del conflitto di interesse. Basterebbe questo ragazzi per dire ok, tu non hai il conflitto di interesse, quanto ti devo dare in più rispetto a un intermediario che ha un interesse e che non mi consiglia il meglio? No, mi devi dare di meno. È incredibile. Ok ragazzi, conclusa questa parte sui costi, cosa ne penso di questo portafoglio? L'ho già detto. Io quando guardo un portafoglio, chiudo gli occhi e dico, io investo su questi strumenti? La tipologia degli investimenti che io ho all'interno del mio portafoglio è così? O comunque se io avessi quegli obiettivi, investirei in quegli strumenti di investimenti? Oppure ancora, se io avessi un profilo di rischio come questo cliente, come questo investitore, io andrei a scegliere questi strumenti finanziari? O per ultima ipotesi, prendo questo strumento finanziario e dico, per avere questa resa a questo rischio, c'è di meglio? Potrei andare a fare qualcosa di diverso? Ecco ragazzi, io quando vedo questo portafoglio, la risposta è sì a tutte queste domande. E cercherò di farla breve, proprio perché l'abbiamo già sviscerata un po' all'interno di questo video, no? Rispetto a questi fondi c'è qualcosa di meglio? La risposta è sì, abbiamo visto le tre inefficienze, tutti nella stessa casa di investimento, troppeggiato è un costo, ricordiamolo, e sostanzialmente non mi piacciono le cedole, sono efficaci a livello fiscale, e non mi permettono di ottenere un rendimento di scala, il famoso interesse composto. Per le assicurazioni c'è di meglio? Assolutamente sì ragazzi, quando parliamo di assicurazioni, parliamo di coperture assicurative, parliamo di trasferire il rischio. Io pago un premio per trasferire il mio rischio, non per investire. Se andate a fare una polizza che ha anche la componente di investimento, probabilmente il 99,9% state sostenendo dei costi aggiuntivi che non sono dovuti. Ok, questo è molto importante, quindi siamo qua, siamo qua apposta, fatevela analizzare, andate a prendere una nota informativa, leggetela, e vedrete che anche voi da soli capirete che forse non è il migliore strumento di investimento per voi. Sui BTP l'abbiamo visto, come strumento ci può stare, è un'obbligazione, è un titolo di Stato, è vero che c'è un rischio specifico, ma era pesato correttamente all'interno del portafoglio, ma dovete, soprattutto oggi, con i tassi che ci sono, fare le valutazioni che abbiamo visto prima. Infine, sui libretti postali, devo dire che ci sta. Ecco, per chi avesse una gestione separata storica o comunque dei libretti postali storici che sono stati fatti quando i tassi erano veramente più alti rispetto ad oggi, non ci vuole molto, potrebbero, ecco oggi, essere molto importanti. Non a caso, tanti intermediari stanno rifacendo delle polizze vecchie proprio per cambiare delle condizioni che altrimenti sarebbero troppo vantaggiosi per i clienti. Quindi se arriva il vostro assicuratore o il vostro bancario che vuole aggiornarvi una polizza o un libretto o sostanzialmente un conto deposito, non aggiornate un fico secco perché, insomma, o meglio, prima di aggiornarlo, informatevi bene. Se volete, chiedete pure a noi e vi daremo il nostro parere perché, attenzione, può essere che magari è peggiorativo per voi e migliorativo per la controparte, in questo caso, assicurazione banca che sia. Va bene ragazzi, siamo arrivati alla fine di questo video anche oggi. Vi ringrazio come sempre per l'attenzione. Se volete inviarci il vostro portafoglio di investimento, non dovete fare altro che cliccare qui sotto. Noi vi stiamo aspettando. Sono sicuro che i contenuti di questi video vi possono essere veramente di aiuto per capire alcune dinamiche degli investimenti e anche dei vostri portafogli e in questo modo ottimizzare il rendimento appunto di essi e quindi farvi raggiungere più serenemente i vostri obiettivi finanziari. Io vi ringrazio ancora una volta e ci vediamo al prossimo video. Ciao!